Toma guappa, questo è sparati. Dese l'India, ti gusta? Serena. Prego. Ma fai sempre tardi, stavolta ricoveriamo al prossimo turno però eh. Sì, sì, guarda che ti piacciono. Ti piace un bistecconi, te l'avevo detto che era un gran figo. Tranquilla, non capisci una minchia. No, no. Hai visto. E deve cambiarsi un attimo, io ho promesso che gliela vuoi vestiti. No. Un minuto, Stella. No, no, Stella, non possiamo far entrare nessuno, Stella! Spagliati. Stavolta. Stavolta. Mi gusta? Mi gusta, mi gusta. Benvenuti a tutti. Oggi parliamo del listino cinematografico della DreamWorks che continua a crescere. Sono stati infatti annunciati due sequel particolarmente attesi. Sto parlando di Madagascar 4, il quarto capitolo dell'avventura di Alex, Marty, Gloria e Melman, la cui uscita è stata fissata per il 18 maggio 2018 e Puss in Boots to Nine Lives and Forty Thieves, il sequel di Il Gatto con gli Stivali, in pratica. Pellicola del 2011 che ha incassato 555 milioni di dollari in tutto il mondo. L'uscita del film, che vedrà il ritorno di Banderas per fare la voce del gatto, è prevista per il 2 novembre 2018. Date e segnate? Perfetto, allora al prossimo video.